Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, allora... Buongiorno, buona domenica. Buona domenica, Dio. Buona, insomma, diciamo che... È una domenica. È una domenica, è una domenica, il buona è relativo. Lo sapete, ieri l'Italia ha detto addio ad Euro 2024 e lo ha fatto in malo modo, Spalletti è finito subito sul banco degli imputati, Spalletti in, Spalletti out, colpe più della squadra, più sue, bisogna parlarne. Io già l'ho fatto ieri nel video, che vi invito ovviamente a guardare e in live, e quindi oggi, logicamente, lo farà più il nostro ospite, che saluto e ringrazio per essere qui. Grazie a te, è sempre un piacere, invito tutti quanti a lasciare tanti like e a iscriversi al canale. Siamo quasi a quota 13.000. Eh, quasi, quasi. E comunque per i like, bravissimo, dovete sapere pure voi che il boss non è che io lo possa convincere con pochi like. L'ultimo video è andato benissimo. Tutt'altro. Quello, il video conclusivo della stagione della Roma, della zona Champions, è andato benissimo. Ed è per questo che oggi l'ho convinto a fare anche un video, diciamo, più sulla nazionale, che fino a questo momento non si era mai fatto. Eh, però, tanti like, tante, tante, tante iscrizioni. Oggi finisce giugno, cerchiamo di farcela. Non mancano tanti iscritti, dai, cliccate quel tasto e scrivete anche la vostra qui sotto. Detto ciò, allora, partiamo. Senza perdere tempo, perché la gente non ha tempo da perdere, soprattutto la domenica. Mentre fa colazione, cappuccino, cornetto, telefono. Sotto l'ombrellone. Sotto l'ombrellone, tanti. Noi, purtroppo, no, sotto i faretti. Però, comunque, Spalletti. Da confermare o da cacciare? No, no, Spalletti deve fare l'uomo. Mi viene in mente una frase di Hillary Blasi. Quindi, deve fare l'uomo. E si deve dimettere. Non lo devono cacciare, si deve dimettere lui. Perché, purtroppo, anche se ha avuto poco tempo, questo è vero, non è andato bene. Non è andato bene niente, nulla. Non ha fatto squadra, non ha fatto niente. Ha confusione anche lui nel fare le formazioni. Non ha fatto telegioco, quindi non è andata. Va bene così. Arrivederci, Luciano. Sì, io sono d'accordo. Perché, comunque, a me dispiace. Perché a me Spalletti piace. Purtroppo, cioè, a me... Ti interrompo. Dico una cosa. Spalletti è un grande allenatore. L'ha sempre dimostrato. Però non è detto che un grande allenatore di club lo sia anche nelle... Nazionali. Nazionale. Certo, è vero. E viceversa, eh. Ci sono tantissimi esempi. Quindi, ci ha provato, non è andata. A me dispiace perché io veramente mi ero illu... Io ero contentissimo. Un anno fa, quando è arrivato Spalletti, io ero contentissimo. Anche io. A parte, ma non soltanto per lo scudetto col Napoli, perché chi mi segue lo sa benissimo quanto io stimi Spalletti come allenatore. Cioè, secondo me, è fortissimo. E, nonostante quello che dici te, è molto vero, secondo me, ovvero che alcuni allenatori sono più bravi a lavorare giorno... Che ne so, mi viene in mente Sarri. Secondo me Sarri in Nazionale sarebbe un disastro completo. Perché è un allenatore abituato e fatto apposta per allenare giorno per giorno una squadra per plasmarla. Un Ancelotti, invece, per dirne una. Ora, andiamo anche a vedere se Spalletti... Io ne rubito, io non penso che si dimetta, ma se dovesse dimettersi o se dovesse essere prendere l'Italia... Un Ancelotti molto meglio. È diverso, è un selezionatore, devi trovare le persone giuste, i giocatori giusti al momento giusto, coccolarli. Mentre nel calcio normale, insomma, nel campionato stai lì a martello tutti i giorni e quindi li vivi proprio i giocatori. E ci vuole dare magari un'impronta più forte sulla squadra. E' diverso, è diverso, è diverso. Cioè, è stato un fallimento secondo me un po' su tutta quanta la linea, ma proprio l'Europeo io l'ho detto, io non penso che tu hai qualche... Non ci ha fatto vedere niente, non ci ha fatto vedere niente. Né degli amichevoli preghe europei, né di durante l'Europeo. Secondo me meritavamo anche di uscire contro la Croazia, anche lui continua a dire che abbiamo fatto una grande partita. Che grande partita dai! 70 milioni imbarazzanti. Io non l'ho vista su questa grande Italia. Poi siamo stati bravi e fortunati perché Zaccagni ha fatto un bellissimo gol e siamo andati avanti. Io però la Svizzera ci ha umiliato senza far nulla, tenendo palla, giocando così normalmente. Non è che ci ha presa a pallonate. Ha tenuto palla, ha gestito, secondo me si è pure riposata. Ma sì, ma la Svizzera è un fiore. Sembra che stava giocando una squadra di terza categoria. Doveva essere il contrario, perché insomma, se vedi singolarmente i giocatori... Quanti dice... È una buona squadra che ha un bel gruppo, secondo me che altro... Però... Esattamente, secondo me è proprio quello. È quello che è mancato all'Italia, proprio il gruppo. Quello dove io critico Spaletti è proprio quello. Non è riuscito a fare il gruppo. Cosa che magari a Mancini era riuscito tre anni fa. Perché la squadra, secondo me è buona questa squadra. Ti piace? Cioè è forte l'Italia? Può farmi aiuto quello che ha fatto, sicuramente. Cioè non è che quella di Mancini era molto più forte. Anche se era più forte in difesa, perché Chiellini, Bonucci... Tanta esperienza. Sì, beh, aiuta. Qualche anno, però tanta esperienza. Il portiere, abbiamo un portiere che ha dimostrato di nuovo di essere il numero uno. Poi dopo, la difesa, quella che è. Centravanti, continuiamo a non averci. Lo sai che secondo me è vero che qua la difesa era molto più forte perché Bonucci, Chiellini è un muro. Però alla fine, quest'anno, no, la difesa secondo me non ha fatto neanche... Cioè Calafiore ha già fatto bene, il bastone ha fatto... Sì, sì, ma nessuno ha... Il problema è stato per me dal centrocampo in su inesistenti. Beh, se non abbiamo neanche un gol degli attaccanti hanno fatto un gol. Due centramanti, dai. Che vogliamo parlare. De loro che non segnano o di chi non gli dà la palla giusta per farla in terriere. La difesa è neanche così disastrosa. No, no, ma non volevo dire questo, stavo facendo soltanto le similitudini con la squadra di Mancini. Più forte, ma non è che era... Cioè c'era Bernardeschi, cioè non è che c'era... No, no, io stavo dire la difesa, i centrali erano più forti. La squadra era una squadra mediocre, cioè, normale secondo me. Però magari c'era un bel gruppo, si è trovato un ambiente favorevole. Mancini è stato bravo a criticare, a creare questo gruppo, a incentivare i giocatori. E quello che deve fare il CT. CT quello deve fare. CT nazionale quello deve fare. Poi dopo ha fatto quello che ha fatto Mancini. Vabbè, sì. Non ha fatto l'uomo, neanche lui, come... No, tutt'altro. Il primo Mancini è stato un ottimo Mancini, perché comunque Mancini ci ha preso che eravamo disperati. Certo. Una squadra normale abbiamo portato l'Europeo a casa. Poi pure lui ha peccato di riconoscenza, forse ha voluto richiamare sempre gli stessi, non accorgendosi che la squadra era spompata, senza stimoli. Ed è andata comandata. Anche molto stanchi ho visti i nostri. Con Mancini o... Ora ora con Spalletti, tutti quanti i giocatori, ti ripeto, a parte Donnarumma, l'ho visti tutti giù, proprio, fisicamente. È vero, è vero. Non so perché, perché non c'hanno stimoli, non so. Sembra che vogliono andare male, anziché giocarsi in Europeo. Ma lo sai, io ho fatto ragionamento, ora magari sarà una teoria del complotto, per carità. Però Spalletti, l'ha detto fin da subito, ha, come si può dire, instaurato un regime, non dico militare, però comunque molto molto rigido, niente... Era assurdo, cioè, parliamo... L'ha detto pure lui. Niente PlayStation, comunque regole molto rigide. Io non vorrei, io non vorrei che la squadra gli avesse un po' remato contro. Perché, ah, per me l'Italia, secondo me, tu, cioè, sei molto ottimista sull'Italia, e sono contento per te. Io la reputo un po' più scarsa. Sicuramente, cioè, non è così scarsa da farsi prendere a pallonate dalla Svizzera, dalla Croazia, cioè, non così tanto scarsa, però non è una squadra forte. Però, è proprio troppo, proprio troppo, cioè, qualsiasi aspettativa negativa, anche se uno... Io me l'aspettavo che l'Italia sarebbe uscita presto, ma non in questo modo. Cioè, di quattro partite io non ne ho vista una buona, una buona, in un europeo, non parliamo comunque che ha affrontato il Brasile di Pelé, ha affrontato squadre, a parte la Spagna. La Spagna, che ora vediamo fino a dove arriva, però... Sì, squadre abbastanza mediocri e ha fatto tutte, tutte partite negative. Io, vi ricordo, non so se gli hanno remato un po' contro. Poi lui ha sbagliato tante cose, perché comunque, se basta a tre, a quattro, cambia modulo, cambia giocatori. È come quello, perché mai non c'è, secondo me, non c'è... C'è un po' il feeling. Esatto, con i giocatori, con qualcuno, cioè, non erano contenti. Non c'era quell'empatia che si crea tra allenatore e giocatore, a volte. Quindi, proprio lui ha un carattere un po' che... È vero, è vero. Non è che si vuole, vuole sempre bene, ecco. Sì, sì. In dettala romana, dovrebbe fare un po' a volte un passo indietro. Invece è molto orgoglioso. Per questo ho detto all'inizio, deve fare l'uomo e si deve dimettere. Secondo me. Sì, così... A pezzare molto questa scelta. Salva la faccia. Secondo me, se se ne va... Ha fallito. Prende atto che non è andata e basta. Quante cose vanno male. Perché più che altro, cioè, c'è mondiale comunque da conquistare in tutto questo. Certo. È vero che l'hanno allargato a 48 squadre, quindi ci vanno tutti... Cioè... L'hanno fatto per noi. L'hanno fatto per noi alla fine. L'hanno più qua, voglio dire. Quindi, ci dovremmo andare in ogni caso. Però, certo, a me sembra... Il progetto è morto sul nascere alla fine. Non è che siamo arrivati a fine ciclo. Il ciclo non è mai partito. E secondo me, andare avanti è un prolungare un qualcosa che non c'è, che è già morto. Prolungarlo artificialmente, perché ormai, secondo me, il ciclo è finito. Sì, sì. Neanche è iniziato che già è finito, però... Ma hai visto i giocatori finiti, no? Finiti, proprio spompati, senza voglia. Secondo me, una cosa, quanto è colpa di Spalletti? Cioè, se più o meno. Più colpa dei giocatori, più colpa di Spalletti, magari più colpa di chi ha scelto Spalletti. No, no, ma Spalletti secondo me è stata una scelta giusta. Cioè, una buona scelta. Io ero contento quando è venuto il nazionale, quindi... Non posso dare queste colpe. Ho visto giocatori senza grinta, senza voglia, che è fondamentale. E quindi la colpa, sì, ai giocatori, ma anche all'allenatore che non ha saputo scegliere i giocatori giusti. Cioè, se vedi un giocatore che non ci stacca la testa, sbaglia la prima partita... Di Lorenzo? Per esempio, Lorenzo ha fatto un europeo, un gran bel giocatore, ma questo europeo è andato male. Quindi, non è andato. Scamacca non ha presa mai. Non ha mai. Ma io lo dico pure quello, no? Scamacca, alla fine, ha fatto gli ultimi quattro mesi della Tanta ad altissimi livelli. Benissimo. Quindi io ero contento. Cioè, io quest'anno pensavo che con Scamacca, titolare, R-Tech e riserva, stavamo messi abbastanza bene. Non è male, come dicevi, non è male questo attacco. Scamacca è il signor giocatore. Hanno fatto zero tiri in un altro po' in due. Non zero... Zero... Mai pericolosi. Scamacca da dentro la porta è riuscito a prendere il palo. Vabbè. Io mi domando pure quello, perché con i club e perché con l'Atalanta Scamacca abbia fatto benissimo, così come tanti altri giocatori, è arrivato in nazionale immobile. Comunque, Mancini senza centravanti ha vinto europeo. È vero, è vero, perché comunque pure immobile. L'immobile della nazionale, quello a cui mi riferivo, è un immobile praticamente inesistente. Quindi... Eppure abbiamo vinto. Abbiamo vinto qualcun altro. E vabbè, così. Certo, gli attaccanti stanno lì per far go. Uno che c'è la maglia numero 9, dietro c'è la responsabilità, la devi mettere dentro la palla. Cioè... E davanti alla porta, non puoi sbagliare. Quando, anche se c'è un'occasione sola, ma così ghiotta, la devi mettere dentro. No, cioè qualcuno lo giustificava, con l'Albania ha fatto tre sponde, ma... Cioè, se quattro partite di un europeo che fai tre sponde con l'Albania... E posso far pure io tre sponde. No, io non sono andati bene. Sono arrivati spompati, che ne so, ha vinto la Coppa. Che te devo dire? Sono arrivati spompati tutti quanti. Quindi più squadra o più spalletti? O uguali loro due. La colpa? Sì, la colpa. Ma 50... No, un po' più di spalletti, perché è lui che deve capire che una squadra o qualche giocatore sta sotto tono da toglierlo. O da non confermarlo, o da dargli due giorni di riposo. Perché comunque le partite sono anche ravvicinate per quattro giorni. Quindi devi sapere gestire le forze dei giocatori. Infatti in quello sono detto bene tu all'inizio, cioè il club è diverso da una nazionale e devi essere molto gestore. Motivo per cui, metti caso, per me vi ripeto, non se ne va e non lo mandano via. Anche perché Gravina, che parlerà a mezzogiorno, non se ne andano neanche dopo... Gravina doveva andare via anni fa, diciamo, dopo il mondiale mancato con Mancini, Mancini e Gravina andavano presi e mandati da un'altra parte, perché comunque... A fare un altro lavoro, però. A fare un altro lavoro, possibilmente. Non se ne andato, non ha neanche mandato via Mancini, quindi secondo me il precedente è talmente pericoloso che alla fine Mancini, avendo fatto peggio di Spalletti e non essendo stato cacciato. Io fossi Spalletti mi sentirei offeso, perché a lui non l'ha cacciato, a me sì. Ma infatti io ho detto questo, che Spalletti non va cacciato, è lui che si deve rimettere. No, no, lui dovrebbe farlo, senza alcun dubbio, però comunque... È una cosa difficilissima, è una cosa da altri tempi. In questo, guarda, apprezzo sempre Sarri, Sarri ha sempre preso via, basta, se capisce anche alla Lazio, se capisce che non può più dare, prende firma di dimissioni, che è un atto nobilissimo, che non fa più nessuno, ormai non fa veramente più nessuno. Non va più de moda. No, comunque, ok, mettiamo caso, Spalletti va via. Chi prendi? Chi prendresti? Eh, chi prendi? Non so neanche chi è disponibile, sì. I nomi fatti, lo sappiamo quali sono. C'è il Livornese libero, Max Allegri, che dici? Non è male, cioè il sogno è sempre Ancelotti. Eh, Ancelotti sarebbe tanta roba. Ha due anni di contratto con Real, però è pure vero che Correal ha vinto tutto. Secondo me potrebbe pure smettere, insomma. Eh, se volesse, se volesse. È del 59, ha 65 anni quasi, 65 anni, quindi potrebbe cominciare a pensare a allenare la nazionale, è una cosa un po' pure più tranquilla, quindi potrebbe, potrebbe, magari. Ma io dico, Ancelotti ha vinto. Allegri pure non mi dispiace, dico la verità, Allegri mi dispiace. Sì, secondo me sono... Se gli dai due anni, cioè se lo prendi da ora per i mondiali, dai due anni per poter lavorare, non è male. Poi non so altri nomi che circolano. Ma qualcuno ha fatto il nome di Ragneri, con tutto rispetto. Grande Ragneri diciamo bene, però io no, io personalmente no. Qualcun altro ha buttato in mezzo Sarri, che pure lui è libero. Però, come ho detto in inizio video, secondo me ci sono allenatori e allenatori. Ecco, Ancelotti sarebbe il top, perché Ancelotti è per me, a livello italiano, il manager per eccellenza. Cioè lui è uno che riesce a gestire... Tutti i calciatori di Ancelotti dicono sempre che si trovano bene nella gestione umana di Ancelotti, più che calcistica. E quando è così danno tutti, ragazzi. E poi comunque, c'è talmente tanta esperienza in top club, con tanta pressione, che sa gestire il giocatore. Cioè, secondo me Ancelotti sarebbe il top. Lui, se volesse le dimissioni con Reale, può anche firmare. Pure perché, parliamoci chiaro, Ancelotti ha vinto tutto, più di una volta. Anche quest'anno ha rivinto la Champions. Secondo me, ora, magari io non ci capisco niente, però ti darà più stimoli una nazionale che è la tua. Ma, piuttosto che Mario, vince anche in altre Champions con Reale. Però non hai vinto talmente tante. Non hai vinto talmente tante. Cioè, non c'era lo schilibizzo di prendere la tua nazionale e portarla ai mondiali. E metti caso che succede e chiudi col mondiale. Ah beh. Cioè, con Reale hai vinto tantissime Champions. Ha vinto tutto, gli manca quello, gli manca vincere il mondiale. Eh, il treno in Italia non so se li passerà mai per Ancelotti. Se passa adesso, non hai detto che passa fra due anni. Certo, certo. Basta, Ancelotti comunque ha fine carriera. Quindi, Allegri sarebbe un'alternativa se uno è buona. Sì, no, che a me non dispiace. Proverei con Allegri. Pure Allegri è... Ripeto, Spalletti ero contentissimo. Ma pure io. Quindi stiamo qui a fannomi, a fantasticare. Poi dopo è il campo, è il pallone che dice la verità, insomma. Allegri andrebbe bene. Perché non credo che Ancelotti viene. Secondo me non lascia due anni, in realtà. Aveva avuto, ti ricordi, quella storia nazionale del Brasile, a mezzo di volta. L'abbiamo praticamente preso, poi sì, in Brasile tutti i giocatori, ma meno male, perché se no il Brasile andava a vincere i mondiali. Se tenessero i giocatori brasiliani, gli allenatori brasiliani e usciranno ai quarti contro, boh, non lo so, una Svizzera qualsiasi. No, è un europeo organizzato, il Brasile la butta fuori tutte le volte. Comunque, non parliamo noi, perché pure noi non è che ci andava troppo bene con una squadra che era soltanto un minimo organizzata. Poi, veramente sì, un gruppo che non è stato un gruppo, una squadra che non è stata una squadra. Io penso a Conte. Conte era un altro che poteva fare bene. Conte ha fatto bene. No, Conte ha fatto benissimo. Io dico, poteva rifare bene. C'era una squadra dei pizze fighi, siamo usciti con la Germania ai rigori. Pelle, Zazza in attacco, non scamaccheretevi. Pelle, Zazza in attacco, Sturaro, Parolo, Giaccherini a centrocampo e ti ha portato a battere il Belgio, a battere la Spagna, a giocattela con la Germania. Quelli sono allenatori, quelli sono coluppi. Sono allenatori che spremono, i giocatori che fanno da tutto. Quindi tu sei con l'allenatore, quando è così, quando è giocatore e con l'allenatore funziona. È inutile. Però è quello, il merito dell'allenatore è quello. Nessuno si ricorda l'Italia di Conte per come giocava, se giocava bene, se giocava male. Spalletti, secondo me, si è anche posto male. Voleva cambiare l'Italia, che ha sempre fatto un calcio catenacciano, difensivo. Lui voleva un po' cambiare... Però vincente, quel calcio era vincente. Eh, vinceva per carità. Conte una Spagna che gioca a calcio così... Tichitaca. E il catenacci italiano avrebbe vinto. Cioè, avrebbe vinto. Ma così... Palla lunga e pedalare. Per quello ti dico un Allegri, un Ancelotti, un giocatore... Cioè, un allenatore che non cerca, come ha fatto Spalletti, di cambiare una cosa che è naturale per l'Italia. Perché abbiamo sempre fatto così. E vi ripeto, Conte non è che ha espresso sto calcio. No. Però con tantissima grinta, perché l'Italia, la squadra, quella è veramente imbarazzante. Quella è veramente scarsa. Cioè, dieci volte più scarsa di questa. Quella è veramente, veramente scarsa. Ma proprio tanto. Tanto, tanto, tanto. Eppure, guarda che europeo che hai fatto. E ti ha detto male. Ti ha detto male. Sì, certo. Perché con qualche presuntuoso ti ha detto male. Sì. Poi c'avevi davanti noia, perché hai la miglia portata al mondo del momento. Però, insomma... Però, che si può dire a Conte? Niente. Ha fatto un europeo clamoroso. Clamoroso. Con una squadra nettamente più scarsa di questa. Quindi il problema è tutto mentale. L'allenatore quello deve fare. Ed è per me che gli Spalletti ha fallito. Più del gioco è... La confusione è il fatto che non è riuscito a trasmettere niente alla squadra. Sì, no, ma secondo me non ha fatto gruppo con i giocatori. Non ha fatto squadra lui con allenatore e squadra. Non c'è stato, come ho detto prima. Sì. Quell'empatia necessaria per andare lì e fare cinque partite e vince e portare a casa l'europeo. Comunque, venti minuti di video. Possono bastare. Dalla colazione, penso che abbiamo accompagnato fino al pranzo. Quindi buon pranzo. E con questo, ragazzi, vi lasciamo, vi salutiamo. Vi ringraziamo per la pazienza. Assolutamente. Se siete arrivati fino a qua siete degli eroi. E niente. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate tanti like e commentate con la vostra. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao.